E' stato doppio disco d'oro e doppio disco di platino in tutto il mondo, si è esibito nei più importanti palchi internazionali dedicati alla Latin Dance, è stato superstar dei più importanti show internazionali, è qui con noi Mr. Attacca Bro, Ruli Rodriguez, benvenuto Ruli! Grazie, buonasera, buonasera a tutti voi anche! Sei da poco ritornato da Cuba qui in Italia, come mai hai deciso di ritornare qui nella terra tricolore? Sì, questa terra per me è come se fosse Cuba e poi mi trovavo là, se non sa fare niente ho detto torniamo in Italia, vediamo cosa si può fare, no, sono tornato qua perché questa è sempre, come dicevo, una terra che mi ha adottato, Sicilia veramente me la porterò sempre nel cuore, da adesso fino alla morte! Allora parliamo dei tuoi progetti, proprio oggi esce il tuo nuovo EP, contiene ben sette brani, sette canzoni nuove, tra l'altro la particolarità è proprio che ognuna di queste canzoni ha uno stile diverso Sì, veramente una più brutta dell'altra No, una più bella dell'altra casomai Sì, ovviamente sono molto diverse, una è DM, proprio quella che c'è oggi, si chiama Mr. Attacabro, è la prima canzone perché a me fa un po' confusione, no? Il progetto si chiama Attacabro, la frase è Attacabro e per la prima volta c'è una canzone che si chiama Attacabro, Mr. Attacabro perché? Un casino! Perché? Perché Attacabro è un progetto che il nome, grazie a Capri Ponte, ha deciso di cercare un nome per questi tre, Romano, Sapienza e Rodriguez, no? Perché era più facile, no? Comenzialmente, quindi tutti fanno confusione, attacatà, attacabro, attacabro, no, attacabro è la frase che ho sempre detto io, questa qua E let's go, brother, tipo Amonini fra, no? E niente, questo EP, perché sono sette canzoni, non è un album, è 13, 15, 18 canzoni Si chiama Mr. Attacabro, è come una rivelazione di personalità, quindi qua in questo EP, veramente questa volta è un pochettino più personale, c'è un pochettino più di latino, no? Perché quello che ho fatto io, perché prima facevo il ballerino, è fatto una fusione tra la musica latina e la musica europea, dance music Quelle che qualcuno chiamano house music, quindi latin dance, in questa fase della mia vita voglio fare qualcosa più latin, c'è un po' di raggaeton, tutto molto fusionato, tutto molto commerciale Molto commerciale, facile, voglio che, non mi interessa che il musicista dica è bravo, mi interessa che il muratore, il meccanico dica Ah, è Mr. Attacabro, lo riconosco, è un mio amico, questo mi interessa Tra poco inizierà anche il tuo tour, per cui sarà anche possibile sentire dal vivo, live, questi sette brani del nuovo EP Ricordiamo che la prima tappa è una tappa molto importante, legata al sociale, si terrà il 25 luglio a San Gregorio di Catania per musica contro la mafia Tra l'altro, non so se è una coincidenza, ma la tappa conclusiva del tuo tour è proprio legata anche a un altro evento sociale Si terrà il 2 settembre dal titolo Artisti per un respiro, la notte dei desideri, legato all'Associazione Nazionale Ricerca per la Fibrosi Cistica È una scelta proprio mirata, quella di volerti anche avvicinare al mondo del sociale, prestare alla tua immagine? Diciamo che mi è capitato tante volte, come il prevetto Attacabro, ora che lavoro anche da solo, grazie al mio manager Dario Matrix E lui è una persona che ci tiene, come me, a tutti questi eventi sociali E io, sempre che Dio mi darà la salute e il talento, io farò delle cose per il bene della società Quindi, perché la musica è una cosa che a me fa stare bene E sì, posso collaborare con la mia musica al benestar della salute delle persone Siano bambini, adulti o anziani, che vi venga Ruli, so che hai da poco terminato anche le riprese del tuo ultimo videoclip Proprio di uno dei brani dell'EP, che dà il titolo all'EP e mi serà Attacabro Un border clip Un border clip? Di cosa si tratta? Un border clip sarebbe mezzo siciliano, mezzo inglese, no? Border clip Perché è un casino, no? Praticamente la canzone ti dice quello Put your hands up in the air, no? Quindi le mani su, le mani su, le gente che muore il bacino Ed è un evento molto grosso, un evento che si chiama Evento People Un momento dove ci sono circa 7000 persone che ballano la salsa, il hip hop, il reggaeton, la cultura Dove ci sono tanti insegnanti latini, anche americani, no? Che insegnano zumba, salsa e cose qua Dove prima andavo come ballerino, ora ho avuto il piacere di essere presente lì Con tanti artisti, ma come cantante, come Maria Zia, quello del taxi, avventuras, che ora si chiamano Vena Pupilos che sono, insomma, idols, cantanti molto famosi a livello di salsa, marchiato, mondo carabico E lì abbiamo avuto la possibilità di fare il video con calma, no? Volevo una cosa molto live, molto di popolo Perché io sono un paese piccolo di mare, quindi mi piacciono le cose molto a tu per tu Ricordiamo che già da oggi è possibile vedere il tuo ultimo video sul tuo canale ufficiale di Youtube Sì, seguite su Youtube, Rulli Rodriguez, su Twitter, Mr. Attacabro, su Instagram, Kiochola, Rulli Rodriguez E su Facebook, Rulli Rodriguez, sono sempre vostri amici, saluto a Sesta Rete, a Tremacia, a tutta la staff Saluto a tutti quanti, a tutti amici e fans, per voi Mr. Attacabro Thank you, thank you, thank you, okay, 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 okay